Buona giornata, buon venerdì, ultimo giorno anche di questa settimana, il 17 di luglio del 2015 con l'appuntamento che si rinnova ovviamente alle 13, alle 20 sono Radio Number One per parlare di tecnologia e adesso invece con i principali titoli per la giornata di oggi. 28 luglio è la data fissata da Motorola che ha distribuito degli inviti anche in Italia per l'evento in cui non si sa cosa verrà presentato ma ci sono alcuni indizi sull'invito, ci sono una X, una G e una X puntata, vedremo questo che cosa vorrà dire. L'invito è per una diretta streaming, direttamente per seguire l'evento che avrà negli Stati Uniti, ovviamente vi informeremo appena avremo ulteriori informazioni. Ci si aspetta tra l'altro di avere anche un nuovo Moto 360 come probabile ospite di quell'evento, il Moto 360 2 di cui sono trapelate alcune informazioni, in realtà non cambia tantissimo rispetto al primo modello e quella che è la cosa più importante è che secondo alcuni potrebbe convivere tra l'altro con il primo modello, potrebbe essere affiancata infatti la vendita dei due prodotti senza abbandonare la prima edizione dello smartwatch. A proposito di smartwatch arriverà anche quello di Swatch che ieri ha annunciato il suo progetto per produrre un orologio che avrà diversi giorni, tra l'altro di durata della batteria, delle funzioni smart al suo interno. Non è dato sapere con quale tipo di software e con che tipo di funzionalità per il momento, però è solo un progetto per i prossimi mesi. Difficile con l'autonomia di diversi giorni che è stata annunciata che si possa parlare di un prodotto Android Wear. Vedremo. Google ha pubblicato i suoi dati fiscali, 4 miliardi quasi di utile su un fatturato di 17,7 miliardi di dollari nel corso di tre mesi, dati veramente importanti, utili tra l'altro superiori alle aspettative. Arrivano nel giorno in cui Google deve registrare un primo dispiacere invece riguardo alla Google self-driving car che per la prima volta è stata invece coinvolta in un incidente con dei feriti. Però bisogna dire che non è la Google car responsabile dell'evento e peraltro che fino adesso veramente era andata benissimo per la macchina che si guida da sola. HTC, ieri ci ha fatto sapere che arriverà in Italia a settembre il One M9 Plus, una scelta sicuramente particolare, al primo momento era stata esclusa l'arrivo in Italia di questo modello, probabilmente le vendite di One M9 hanno suggerito di smuovere un po' il mercato. Però l'altra notizia che arriva da HTC è il fatto che HTC Grip, cioè la smartband che è stata presentata al Mobile World Congress, così come l'abbiamo vista, non uscirà mai. Viene congelato per il momento il progetto che verrà ripreso più avanti con un prodotto rinnovato. Misterioso benchmark invece che ha svelato un prodotto di LG con uno Snapdragon 808 a bordo e con 4 GB di RAM, secondo alcuni potrebbe essere il nuovo Nexus Phone, vedremo quello che riusciremo a scoprire nelle prossime settimane. E poi l'ultima cosa riguarda l'Amazon Prime Day che ha battuto ogni record di vendita nella giornata del 15 di luglio, ma a quanto pare l'Amazon Prime Day ha fatto benissimo anche a tutti gli altri siti di vendita online che hanno registrato un traffico di due volte e mezzo superiore a quello abituale. E questo probabilmente perché i delusi dell'Amazon Prime Day, coloro che non sono riusciti ad agguantare il proprio oggetto desiderato, poi hanno ripiegato su altri venditori. Però insomma sicuramente un'operazione interessante, vedremo se Amazon deciderà di ripeterla. Noi ripetiamo, Mister Gadget, una volta alle 13, una volta alle 20, ovviamente l'appuntamento è su Radio Number One. Buon weekend, ciao!